Sei pronta? Sì. Adesso io ti leggo una domanda e tu devi rispondere. Questa è divertente. È facile, è corta, rapida. Ciao nonna, il mio fidanzato mi ha lasciato e ci sto tanto male. Che cosa devo fare? Non pensare, perché se ti è lasciato non ti vuol bene, allora non continuare. Non pensarti più. Pensa ai miei video e così, i miei messaggini, i miei vi, 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 cosa che si dice? Non mi viene bene la parola. I miei vi di, vi, vi, aiutami, i miei, i miei. Lei sta male, poverino, l'ha lasciata il fidanzato e deve guardare i tuoi video. Sì, e non pensare più al tuo fidanzato. Se ti ha lasciato perché non ti vuol bene e non vivere con una persona che se non ti vuol bene. Non vivere con una persona perché lo fa adesso poi lo fanno anche l'altra volta. No. Giusto, non fa una piega. Non sei una grande psicologa. Pensavo di essere un consiglio migliore. Sei stanca? Ma no, sì, stai qui sempre così. Ma, non so. Vuoi andare a fare una corsetta? Eh, adesso, attenta da trovare, ma non andare di notte però. Perché non si sa mai cosa puoi fare. Ormai praticamente alle cinque notte. Sì, ma quando è buio sulla strada ti vengono addosso anche le macchine. E poi ti vengono addosso anche, c'è il giro al lupo Mannaro. Ma io metto la pettorina gialla. Sì, o... Poi se ti vengono addosso vanno e noi non sappiamo neanche chi è che ti è venuto addosso. Allora, ma è più importante se sto bene, no? Per sapere chi è. Ecco.